Blitz simultanei che hanno scelto come palcoscenico i simboli della cultura italiana. Il Colosseo a Roma, la Mole Antonelliana a Torino, la Torre di Pisa e Sant'Antonio a Padova. La rivolta studentesca ai tempi dei social network si fa creativa e produce un effetto domino che ieri ha coinvolto praticamente tutte le città universitarie italiane, con cortei, traffico in tilt, occupazione di stazioni e ride sui tetti. Non sono mancati scontri e feriti nelle cariche della polizia a Firenze, Bologna e Torino. Dalle reti di internet alla partita a scacchi che si gioca a Montecitorio, dove il voto finale alla Camera sulla riforma Gelmini è slittato a martedì prossimo. Ieri il Governo è stato di nuovo battuto su un emendamento di Futuro e Libertà che i finiani hanno votato con le opposizioni. Protesta minoritaria che legittima Violenti e Baroni, ma se stravolgono il testo la ritiro, ha avvertito il Ministro. Lo faccia e ricominciamo a discutere tutto da capo la replica dalla PD di Bersani.